Ciao a tutti, Adriano, trader indipendente ed investitore, oggi qui per commentare come al solito, come spesso faccio, la singola seduta di borsa con il focus su Milano, Piazza Affari, ma ovviamente vedremo anche quello che è successo negli altri mercati in America e via dicendo. E anche oggi ho qualche notizia da riportarvi, qualche spunto di riflessione da darvi e insomma c'è ancora tanta carne al fuoco. Oggi seduta corale di rialzi, mentre ieri Piazza Affari si è mossa praticamente da sola e oggi chiudiamo per quanto riguarda il Fuzzimiba a 33.363 punti, sembra quasi uno scioglilingua, e anche oggi superiamo così a pie pari almeno un paio di livelli che potevano rappresentare una resistenza, ovvero i 33.200 e 33.300 punti, mentre questo non è stato nessun tipo di resistenza su questi livelli. Ne abbiamo testato anche un terzo, quello dei 33.400 con un massimo intraday a 33.405 e tutto sembra dover andare avanti così fino a quando non si sa. Adesso l'attenzione si sposta, già oggi si spostava sulle parole che avrebbe potuto pronunciare Powell, che magari potevano infastidire i mercati mentre parlava al congresso. In realtà oggi Powell ha parlato al congresso e ha detto che è questo l'anno del taglio dei tassi di interesse, ma non saprebbe nemmeno lui dire una data e ha sottolineato che la politica è molto attenta alla problematica, per cui si va nella direzione di riportare l'inflazione al 2%, ma ancora senza specificare una data precisa. Stasera, Beige Book, Federal Reserve, per cui lì l'attenzione secondo me sarà un po' capire, da quanto emerge dal Beige Book, se gli ultimi dati dell'inflazione che erano leggermente cresciuti e anche dei salari possono aver disturbato qualcuno all'interno del board e poi vedremo come eventualmente la prenderà il mercato. Per il momento gli Stati Uniti reggono bene, stanno anche rimbalzando tutti e tre gli indici e si ripigliano anche i tech che ieri hanno infassato il Nasdaq e quindi questa incognita per oggi sembra ormai superata. E un'altra incognita che potrebbe esserci per Piazza Fari, per i principali mercati, almeno per quelli europei, è l'appuntamento con la BCE, per cui vedremo un po' che sia scontato il fermo dei tassi. Ok, vediamo poi come al solito di cercare di capire dalle parole di Christine Lagarde cosa ci riserva il futuro, se vorrà una volta tanto esporsi e sbilanciarsi, io non credo, conosciamo bene la donna e non penso che lo farà, comunque sia questo diciamo è l'appuntamento clou della settimana. Oggi vi dicevo che Piazza Fari è salita ancora ed è salita, se vogliamo ben vedere, anche con volumi ancora una volta in aumento. Questo è il report di Borsa Italiana, 889.870.000 di volumi, rispetto in aumento sia rispetto alla seduta di ieri che a quella di lunedì. Questo è quanto. E andiamo a vederci anche il grafico di Piazza Fari, questo è un attimo il grafico del DAX, ma lo prendiamo subito. Ecco, eccolo qui il grafico di Milano, aggiornato, 33.363 punti, non si lasciano gap aperti, si parte praticamente dal livello di apertura di ieri, poco sotto, quota 33.200 punti, 33.143, ma se andiamo a vedere il grafico, diciamo, del orario, della seduta di oggi, vedete come partenza subito 1.2 a portarsi subito sopra i 33.300, per cui Bucati 33.200 e 33.300 come se nulla fosse, un accenno di consolidamento già su questa fascia di prezzi e poi il primo attacco è quota 33.400. Notate come bastano, che ne so, un paio di candele, a volte con una discesa manco di 100 punti in intraday per poi rivedere subito gli acquisti. Per cui, ripeto, segnali di debolezza non ve ne sono, il target lo sapete per chi la prima volta che vede i miei video è 34.000 punti e quello che stupisce ancora è che ci si vada così in diretta e senza colpo ferire. E cosa strana è che poi si assistono anche, diciamo così, a delle scene un po' strane. Ad esempio, vediamo cosa è successo su Fincantieri. Oggi il titolo segna un più 7,16% volumi stratosferici. E che cosa ha mosso il titolo? Dobbiamo fare un pasto indietro e andare a vedere un po' le notizie che erano uscite sia l'altro ieri che oggi. L'altro giorno Fincantieri, come leggete dal titolo, cade con volumi boom perché il mercato valuta l'operazione sul capitale e sulle miei per crescere nella difesa. E l'articolo, non ve lo posso mostrare perché è in abbonamento, ma io sono abbonato, l'ho letto e ve lo posso raccontare, dice praticamente che sì, è questo, diciamo, il volere di Fincantieri. Espandersi nel settore della difesa, però capitalizza in borsa praticamente 800 milioni di euro e per fare nuove acquisizioni ne servirebbero altri 400 milioni, per cui si pensa ad un aumento di capitale magari con un mix tra nuova emissione di azioni e qualche bond, per cui il mercato ha la presa male perché da 800 milioni ne chiedi praticamente la metà ancora sotto forma di aumento di capitale quando hai un debito di 2,3 miliardi alla fine del 2023. Per cui gli scogli, diciamo, cioè l'incognito secondo me sui Fincantieri ci sono anche per operazioni di questo tipo. Poi oggi il mercato ci ripensa perché la notizia, appunto la trattativa che ha anche in ballo con Leonardo per rilevare le attività della difesa sottomarina VAS e quindi sì, si va in quella direzione e il mercato oggi ci ripensa e torniamo sul grafico e appunto riprende con vigore, con forza e anche con ottimi volumi e si riporta sopra 0,59. Succedono cose strane. Due giorni prima si scende a dirotto e poi il mercato ricambia ancora, diciamo, parere e si risale con gli interessi. Dal mio punto di vista non è che voglio dire male del titolo ma Fincantieri un po' per la questione appunto legata al debito non ispira, insomma, troppo fiducia. Questo aumento di capitale mi sembra massiccio per la capitalizzazione del mercato che ha e poi il problema di Fincantieri, secondo me, è un po' sempre il solito. Non è un titolo che ha, diciamo, un appeal speculativo perché il 70-71% delle azioni è detenuto da Cassa Depositi e Prestiti per cui lì si va a morire, insomma, è sotto il controllo dello Stato. Non ha un problema di ordini perché se domani mattina decidessero di non prenderne più potrebbero andare a lavorare per i prossimi, penso, 5-6 anni. Il problema è il margine di profitto che stenta per una serie di questioni, insomma, è un po' un'industria, diciamo, che va bene, insomma, per garantire un certo grado di occupazione in Italia. Comunque sì, la notizia ha fatto bene, il livello sul quale si è portato è interessante e se volesse proseguire spazi ancora per una salita a livello tecnico in area 0,52-0,80 ci sarebbero. La notizia ha fatto bene anche a Leonardo, come vediamo chiude sui massimi a 20,88. Qui siamo su massimi, no, non siamo su massimi storici, ma ci avviciniamo a delle zone di prezzo molto molto interessanti, quantomeno decisive perché potrebbe tornare a ritestare ancora i massimi del giugno 2007 quando eravamo in area 21,59-21,60, siamo a 20,88, la direzione sembrerebbe lì. Poi se dovesse passare addirittura e magari fare come in Fuzzibib, senza colpo ferire, sarei il primo a essere stupito. Mi sembra un titolo che comunque sia ottimamente impostato, ma molto ben tirato, questa è la mia idea. Dopodiché diamo un'occhiata a Saipem perché oggi qualche presa di beneficio si è vista e come vi avevo detto nel video di ieri immaginavo che potesse esserci ancora qualche spike al rialzo e anche sopra quota 2 euro. Infatti così è stato, si è spinto a 2,008 e poi target del numero diciamo tondo lì per comprato che non me lo sto nemmeno a raccontare e una serie di circostanze ha fatto sì che oggi quantomeno chiudessero la seduta in calo a meno 2,22%, ma si è vista anche una bella reazione dai minimi, per cui può essere che si stabilizzi. Adesso vediamo un po' cosa fa, ormai secondo me è tardi, però è bello segnale, insomma, questo è il movimento che ha fatto oggi. E se volessimo parlare anche di cose altrettanto strane che succedono sempre fuori dal listino principale, vi mostro quello che sta succedendo su Mar, così magari mi dite anche la vostra. Mar è un titolo che oggi è chiuso a 10,70 e sta in una fase laterale da qualche mese e ok, ma sta scendendo con volumi da due sedute, oggi è la seconda che è in fila al ribasso, con volumi decisamente in aumento senza, diciamo, la minima notizia negativa, c'è il fatto che lunedì esce la trimestrale e c'è anche qualcosa di strano nel senso che è un titolo su cui con la discesa sotto quota 11 ha fatto, secondo me, saltare diversi stop. Ma anche ieri si sono visti movimenti strani, tipo 10.000 pezzi in vendita, fasulli perché erano ordini che sparivano così, però incentivavano appunto la vendita di azioni e adesso chiude a 10,70, si ferma praticamente sull'orlo, almeno graficamente, del precipizio perché poi avrebbe attesi di discese magari addirittura sui minimi, ma quello che mi stride, stiamo parlando di Mar, per cui Food, siamo tornati praticamente sui livelli del 2020, quando è scoppiata la pandemia. Questo è stato il tracollo, lo abbiamo visto praticamente su tutti i titoli, mi suona strano che Mar possa essere su questi livelli a distanza di quattro anni essere tornata su livello pandemia. O c'è qualcosa sotto che noi comuni mortali ancora non sappiamo, oppure magari qualcuno ha voluto far saltare determinati stop perché sai già invece che magari la temestrale sarà meglio delle attese e per cui magari da domani cominceranno a riportare sul titolo o magari potrebbe partire lunedì. Quindi siamo, vi ho fatto un ragionamento riportandovi una mia osservazione, non voglio dire farà questo, farà quello. Questo è quello che ho osservato io. Vedete voi, insomma, magari me lo dite nei commenti cosa ne pensate di questa cosa, di questa mia osservazione che è tornata ai livelli del Covid. Il titolo è sì, in downtrend. Non vi sto nemmeno a raccontare i top price che danno che sono in area 15 euro mediamente, ma sappiamo, no? I top price vanno sempre presi un po' come così, con le pinze. Vediamo, insomma, dai. Dopodiché facciamo un salto in America perché alla faccia dei titoli e del mercato strabriliante dobbiamo vedere cosa sta succedendo su Coinbase, che in questo momento sta sui 235 dollari, ha fatto praticamente un più 100% in un mese, neanche, sì no, da un mesetto, ha fatto un più 100%, era sotto quota 120, era sui 115, il minimo siamo 235, avrebbe in teoria anche una resistenza sul livello dei 240, ma non sembra avere tanta voglia di mollare, però ve lo segnalo perché appunto se non c'è un ritracciamento sul Coinbase va bene, va bene tutto, non so, è forse meglio andare a giocare all'otto per avere più possibilità di successo. Ci sta il fatto che si sia apprezzato col fatto che il Bitcoin è tornato su, anzi mi sembra abbia registrato anche nuovi massimi storici, col fatto che hanno creato gli ETF e le banche, per cui anche chi non detiene insomma Bitcoin può comunque tradare la valuta con uno strumento in Euro e via dicendo. Singolare però insomma la salita che sembra non dover finire mai. Vediamo con il Gold perché vi do un target che è quello molto ambizioso dei 2400 dollari l'oncia, per quest'anno siamo a 2143 per cui lo mettiamo agli atti, oggi è il 6 di marzo e per adesso comunque sia si sta lavorando il massimo che ha fatto registrare il 4 di dicembre. Si scavalla anche il 2150 può ulteriormente strappare. E il petrolio che è ancora in area 80 dollari e vediamo se ce la fa a passarli oppure no. Un'occhiata veloce ai listini americani giusto per avere una panoramica più completa e come vi dicevo sono tutti in rialzo dal Dow Jones che dopo qualche seduta di debolezza ritorna a testare i 38.800 punti. L'SP500 che mi pare diretto per l'anno, l'ho già detto nei precedenti video, al 5.400 e sta a 5.124 ma anche qui di correzioni vere non ne fa. Nasdaq 100 18.130 anche qui due sedute per rifiatare neanche tanto e via così e questo è il Nasdaq che si è riportato anche sopra quota 16.000 punti e potrebbe andare a ricoprire se non viene infastidito appunto dal magari da quello che può emergere dal benchmark stasera se mandava a ricoprire tra oggi e domani magari quota 16.200 punti. Grazie per l'attenzione, lasciate un like, iscrivetevi al canale e buonasera.